e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi parliamo di tecnologia fai da te e batteria e allora mi chiedete in tanti maggiori informazioni per quanto riguarda la costruzione la realizzazione di gruppi di accumulo per appartamento anche perché perché qualche annetto fa nel 2017 ho realizzato il mio primo power wall power wall ragazzi non è altro che una grande batteria che accumula energia e poi la puoi riutilizzare per esempio in un appartamento perciò la ricarichi con il fotovoltaico e poi per esempio di notte utilizzi l'energia che hai diciamo stoccato accumulato dentro a queste batterie perfetto allora partiamo dalla considerazione che è una tecnologia molto grande che passando 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 degli anni sta andando a migliorarsi potenziarsi e ha davvero ragazzi un potenziale che è una cosa assurda ti dico questo perché perché il pacco batterie che io ho realizzato l'ho realizzato con delle celle litio 186 50 ricondizionale perciò recuperate riciclate ecco perché quando sento tanti dire le auto elettriche e non vanno bene perché poi cosa fai delle batterie li devi buttare non inquinano ragazzi le batterie delle auto elettriche se ci sai fare e se hai fortuna per il 90 per cento le puoi recuperare e recuperare facendo cosa dei gruppi di accumulo delle batterie di accumulo vere e proprie connesse all'impianto di casa tua ora valutando che io non ho il fotovoltaico ma utilizzo questo gruppo di accumulo da sono sbaglio 2,5 kilowattora formato da tre batterie da 77 celle cata una perciò 77 77 77 connesse in serie e mi danno un pacco batterie da 12,6 volt sono tutte celle come abbiamo detto usate però ovviamente ricondizionate testate provate ricaricate misurate eccetera 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 e poi messe insieme in un unico pacco batterie norme che alla fine ragazzi è un colosso un colosso così sì così super giù è così io lo connesso al mio ps cioè quando se ne va via la luce io grazie al pacco batterie posso utilizzare sia una parte di elettroutensili che il mio computer principale che il secondo e anche se ne ho necessità la cnc e la stampante 3d lo utilizzo perciò con un vero e proprio diciamo un gruppo di stoccaggio e utilizzo quando serve quando se ne va alla luce in automatico si disconnette si connette alla linea diciamo elettrica di avvalle perché lui a monte avvalle ci sono tutti i miei utensili il computer tutto la scrivania con le luci computer tutto autonomia ragazzi e allora da quando l'ho adattato per uso in ps se ne è andata la luce forse 34 volte e parliamo di due barra due anni e mezzo una volta e per danni agli impianti qui nei paraggi hanno tenuto staccata la linea elettrica per circa una giornata ragazzi io quando tutti erano in tilt tutto spento io ero che lavoravo sia il laboratorio che anche qui al computer perché perché avevo l'impianto alimentato dal mio power one parliamo sempre di un power one piccolo quello se io volessi si potrebbe anche raddoppiare come capacità mettere per esempio altri tre moduli in parallelo mantenendo la 12 volt o ancora meglio in serie salendo a 24 volt adattando anche un inverter è più grosso più grande così da avere un kilowattora molto molto più alto ora ragazzi tutto questo perché perché vorrei ampliare per bene la mia lista dei corsi e voglio fare un corso dedicato solo ed esclusivamente alla tecnologia diciamo di accumulo per appartamento chi i miei studenti che hanno acquistato il corso batteri maker e quello è un corso diciamo più dedicato alla customizzazione di pacchi batterie piccoli per esempio per le bici elettriche moto elettriche monopattini elettro utensili sfruttano sempre sì le stesse celle litio però i metodi di lavorazione di assemblaggio sono differenti ora la mia intenzione però a differenza di quello che è una cosa più professionale dedicata anche ai privati che vogliono studiare vogliono ampliare le loro conoscenze però lo scopo è quello di diventare tecnico specializzato in quel determinato settore questo invece ragazzi potrebbe essere un corso dedicato a tutti quelli che vogliono realizzarsi da sé un piccolo impianto di accumulo piccolo più o meno piccolo più o meno grande perché poi è normale in base alle necessità in base alle possibilità uno va a scegliere la componentistica diciamo dimensionata più o meno grande e farlo anche ad un prezzo accessibile a tutti a differenza del batteri maker che contempo detto quello è un altro livello lì ci sono nozioni tecniche lì ci sono esempi pratici e lì ci sono anche le normative cosa non fare cosa fare quale normative proprio della comunità europea italiane anche utilizzare per andare ad assemblare i pacchi e come farli come ripararli dove acquistare la materia prima diciamo che quello resterà sempre il top per chi vuole imparare questo settore anche lì parliamo di questi gruppi di accumulo anche lì si fanno delle parentesi su questa tecnologia di fai date per pacchi batterie l'accumulo però è sempre diciamo larga non specifica questo invece vorrei trattare solo questo tema e verrà ovviamente più piccolo come video corso però ragazzi sarà molto ma molto più economico si baserà sempre sulla piattaforma e dove oggi collaboro lavoro mi appoggio che sotto comunque trovi tutti i link in descrizione e niente ragazzi diremo un po voi cosa ve ne pare di questa mia idea se vi piace se siete disponibili se siete potenzialmente interessati potete iniziare anche a contattarmi tramite mail per prenotare già oggi il corso ragazzi per questo video è tutto se ti è piaciuto iscriviti al canale mi raccomando un like ciao e al prossimo video